E' una meravigliosa tappa dell'Onda Live Tour, il tour itinerante Honda che più o meno tocca 18-20 location importanti in Italia da marzo fino a giugno. Siamo arrivati a Messina, siamo già a 150 prove giornaliere, un grande record. Ricordiamo che siamo qui il 2 e 3 giugno nell'ex piazza del popolo, quindi chiunque volesse venire a provare queste meravigliose moto Honda basta che porti la patente valida. Se non ha il casco glielo diamo noi e si parte per un giro di pure emozioni. Siamo qui in collaborazione con le concessionarie Team Motors e Moto Store di Messina, concessionari ufficiali Honda, quindi vi aspettiamo, siete benvenuti.